E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parla il vostro ProGamer89 e oggi siamo tornati su Fortnite e insieme a due Christian e niente oggi si fa un po' di calzeggio, giuro che andrò in poi pensare un po' a un po' più di YouTube, cercherò di caricare molti più video, se sopra di me manco una pausa, andiamo all'underout, carichi per questa partita, sì, sono da aspettare che faccio il posto e quindi, io no, io sto al cantiere, c'è il cantino, il genio è una ruota, hai due anni? C'è uno da me, sì, ok, ok grazie, 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 gra eccolo l'ho visto ci sono primi la cazzo sono in due porco sì ma questa quale lascio vedere un attimo una cosa c'è in pratica l'avete visto pure voi non sentiamo anche un colpo non è trattato ma concorso c'è lo sparato termina volte ricordo di seguirvi c'era seguito mi ricordo di seguirmi instagram sul facebook e su telegram lascio tutto in descrizione e pure sul canale condividi i video che faccio mi raccomando così oggi arriverò a 150 iscritti che ci sono uno io sono vicino alla casa blu guarda la guarda no cazzo in due stavità sono morto bella vita sopra 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 grande finisce con i c4 finisce con i c4 ecco l'è un altro musicura musicura hashtag forza christian vai 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 dai dai abbiamo fatto bello land 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 forever nuova operazione settembre vi porterò pure una live su una nuova operazione sul rainbow e quattro una live sulla nuova stagione di fortnite è andata una laggata di brutto ma chi è che costruisce scale al capone rosso non io sono stato manco c'è 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 c' allora tieni tieni 3 kill tu ce l'hai già fatto si vedi ti vuole far me perchè sei con voi ok mi sa di sì eh sì hanno uccisi tutti eh io ho un cd3 lo diamo io 0 mi dista affaglio quello mi sono bugato in mezzo a mezzo al cattore dai la io non la sento che la vinciamo la salito 35 non ho il teatro se ne riesco manco a fare una kill la kill se la vinci dai dobbiamo compatti ragazzi se vuoi c'è il caccia blu però prendo io lo lascio io perchè mi sa cioè mi sa per così a causa eccolo davanti a noi davanti a noi non bisogna saltare eccolo che cazzo spari no che ci sa uno che sa scusa scherzo andiamo 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 e non sconosciardo sotto asserchi come bere questa cazzina eccolo l'ho visto sono sotto 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 non c'è un po' di ah sa l'intermisa non va bene non va bene addio car guarda non direi da dietro sì ma non lo sapeva unico voi sono bastato niente ragazzi abbiamo riprovato sono arrivato a farlo solo che è una cosa impossibile ti trovi nabbi dietro c'è nabbi ti trovi uno skin dietro niente raga lasciate l'archi iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video bello voglio iscriviti al canale